L'attesa è terminata e finalmente il momento del calcio giocato anche per le protagoniste del campionato di Serie D, dopo un'estate tormentata in cui è successo tutto e il contrario di tutto. Le principali attenzioni, inutile negarlo, riguardano la presenza sul principale palcoscenico dilettantistico del Bari, l'unica delle nuove pugliesi inserita nel girone I, quello che comprende oltre alla matricola lucana rotonda, anche con pagini calabresi e siciliane. Giovedì scorso c'è stata la presentazione dei calciatori, domani a partire dagli ore 15. C'è l'esordio in campionato, sarà subito sfida tra due squadre ambiziose, quella che attende i biancorossi di Gianni Cornachini impegnati in trasferta, se la vedranno. Con il Messina allo stadio San Filippo, Franco Scoglio, il Bari, pur essendo partito in ritardo, vuole lanciare subito un segnale importante in generale alle antagoniste del raggruppamento, in particolare alla quotata formazione siciliana che nei giorni scorsi ha pescato anche in Puglia, assicurandosi le prestazioni del giovane esterno barlettano, ex palmese Claudio Dascoli. Comincia sempre domani anche il campionato per le pugliesi inserite nel girone H, si parte subito con due derby, il primo si giocherà alle ore 17 allo Iacobone, da una parte il Taranto costruito per vincere, dall'altra la matricola con tanta voglia di stupire Bitonto che nella presentazione ufficiale di giovedì ha raccolto l'affetto dei propri sostenitori. Esordio in panchina per Massimo Pizzulli che torna così a guidare la squadra della sua città, l'altro a fare tutto pugliese invece coinvolgerà il Nardò che avrà nell'occasione il fattore campo a disposizione e l'ambizioso Tim Altamura che ha scelto di affidare la guida tecnica della squadra a Claudio De Luca, uno che nonostante la giovanità conosce bene la categoria. Al Giovanni Paolo II si giocherà a partire dagli ore 16. Inizia in casa la terza avventura di fila in serie di Del Gravina che ospita sul sintetico amico del vicino la Sarnese, Murgiani con la novità Pino Di Meo in panchina. ha cominciato la stagione con due vittorie esterne ai rigori in Coppa Italia di categoria, una delle quali domenica scorsa proprio con il Gravina. La matricola fa sano che ha confermato al timone della squadra il tecnico della promozione Giuseppe la terza. Ora i biancazzurri proveranno a partire con il piede giusto anche in campionato domani alle ore 15 nel domicilio dell'Ercolanese.